buonasera a tutti sono daniele benati cominciamo questa nuova serie di incontri con l'arte mercoledì santa cristina a 2021 una manifestazione che ormai è arrivata la sua quindicesima edizione partita del genere che abbiamo sempre condotto in presenza e che da quest'anno e che quest'anno siamo purtroppo costretti a condurre in questo modo da remoto sperando che abbia ugualmente successo perché in passato le nostre conferenze del mercoledì avevano discreto successo voi sapete la formula insomma un docente del nostro dipartimento delle sezioni di arti visibili del nostro dipartimento dialoga e introduce un collega di altre università oppure di musei oppure personaggi che lavorano comunque nell'ambito del dell'arte e in questo modo noi ci apriamo non soltanto ai nostri studenti ma anche alla città con l'intenzione appunto dimostrare quali sono le metodologie gli argomenti le le flessioni che la nostra disciplina sta conoscendo in questo momento cominciamo questa serie con un eh l'intervento di un collega ehm che ringrazio per aver accolto il nostro invito Alessandro Morandotti dell'Università di Torino e mi affianca eh lo dico subito Irene Graziani eh che invece è insegnante eh di storia dell'arte moderna eh presso il nostro stesso dipartimento e si occupa nello specifico eh di arte settecentesca dunque la persona più adatta più adatta di me sicuramente insomma per dialogare con Alessandro il quale Alessandro Morandotti eh ci presenta questa sera eh il lavoro che ha condotto in vista di una mostra che è attualmente aperta immagino che abbia riaperto no Alessandro eh in questi giorni dopo la chiusura portata alle gallerie d'Italia a Milano in piatta la scala e questo meraviglioso spazio gestito da Intesa San Paolo una mostra dedicata a Gian Battista Tiepolo con un sottotitolo molto importante Venetia Milano in Europa eh il significato di questi nostri incontri va al di là di una semplice presentazione della di una mostra di un libro eccetera noi vogliamo appunto che il relatore in questo caso il curatore insieme a Fernando eh Mattocca della mostra in essere eh ci racconti le idee che sono sottese appunto a questa a questa a questa mostra e che cosa appunto ha eh cosa gli ha spinti insomma organizzare una una mostra di questo tipo e e quali sono appunto i contenuti che propone ehm Alessandro dall'altra parte non è nuovo a imprese di questo tipo il professor Morandotti scusami chiamerò come come meriti Alessandro il professor Morandotti non è nuovo a imprese di questo tipo avendo già curato per le stesse gallerie d'Italia nel 2017 una mostra per vero molto bella che si chiamava Caravaggio e poi aveva vari sottotitoli eredi nuovi maestri Napoli e Genova Milano a confronto eh gli spazi della galleria delle gallerie d'Italia in effetti si prestano a a confronti eh a proposte di lettura decisamente innovativi insomma nell'affrontare temi eh anche molto molto complessi eh in quel caso appunto si trattava di parlare della eh diffusione delle delle idee di Caravaggio eh tra Milano e Genova e Napoli eh e dunque eh i confronti che venivano proposti erano essenzialmente suggestivi così come immagino lo siano in questo caso dove il tema che vi viene affrontato è quello di Gian Battista Tiepolo in una doppia prospettiva cioè Tiepolo che lavora a Milano ma Milano che Milano che diventa anche una base di partenza per un'avventura europea dello stesso dello stesso Tiepolo una città che si confronta con un grande orizzonte internazionale una città che vede nel settecento arrivi importanti e che costituisce eh un punto di riferimento importante a livello europeo ehm Alessandro Morandotti lo dico per i nostri studenti che eh dovrebbero ovviamente già conoscerlo ma non ho detto che lo lo conoscano ehm ha insegnato insomma ci ha insegnato in qualche modo devo dire a guardare alla pittura lombarda Milano i suoi rapporti con l'Europa in modo nuovo nel senso che eh gli studi di Morandotti eh hanno aperto prospettive che sono un po' diverse da come siamo stati abituati noi soprattutto a pensare a Milano alla città della peste dunque i pittori amati da testori il Cairo eh questi pittori tragici tristi ehm eh e invece con ehm Alessandro Morandotti lo studio del collezionismo lo studio delle idee che sono sottese al collezionismo lo studio eh degli arrivi importanti a Milano ha appena in Lombardia ha aperto un nuovo modo di guardare appunto alla all'arte lombarda dove c'è una grande perfescenza di idee eh che caratterizza tutto il periodo di cui Morandotti si occupa che diciamo così dall'età di controriforma fino all'illuminismo eh dall'età dei Borromeo diciamo a a quella a quella dei Verri eh tutti i temi eh ai quali eh lui ha dedicato libri eh mostre articoli importanti ehm sempre con questa attenzione appunto per eh gli intrecci dialoghi che si vengono costituire all'interno eh di un centro così ricco come quello di Milano che non è appunto soltanto la pittura la città dei pittori della peste ma è una città che si apre anche a esperimenti molto interessanti in questo senso Alessandro ci ha fatto conoscere pittori come Paolo Pagani come Francesco Corneliani che eh in varie epoche illustrano insomma una una pittura molto molto complessa Alessandro poi non si muove soltanto nel campo della pittura ovviamente anche altri interessi ma eh principalmente il collezionismo ma eh eh devo dire che è appunto questi suoi studi sono stati veramente importanti per ehm per proporci una nuova immagine di Milano e immagino che anche l'argomento di cui ci parlerà questa sera appunto incentrato sulla figura di Giambattista Tiepolo che viene a lavorare a Milano sia eh orientato in questo senso Alessandro poi con Alessandro devo dire abbiamo una lunga eh comunanza di interessi entrambi collaboriamo nella rivista Nuovi Studi insomma abbiamo avuto in passato occasioni di collaborazione spero che ne avremo in eh in futuro ma sono soprattutto contento per gli studenti e per quanti ci seguono eh dell'opportunità che questo eh incontro o da loro di eh venire a conoscere appunto eh la sua personalità e ai suoi interessi per cui a questo punto darei la parola ad Alessandro Morandone ringrazio il professor Benatti ringrazio Daniele Benatti per la presentazione sono molto contento anch'io di eh essere eh come dire qui eh davanti a voi ad inaugurare questo ciclo di lezioni ringrazio anche Irene Graziani la collega Irene Graziani per diciamo così per il suo coordinamento e condivido ora lo schermo che ci permetterà di entrare in merito alla mostra e quello che naturalmente mi teme subito farvi eh vedere se andasse avanti la sequenza delle delle immagini ecco naturalmente l'occasione della mostra è indirettamente legata a una ricorrenza insomma no? I centenari non sempre vanno rispettati ma servono talvolta per eh tenere memoria di eh personaggi del passato per tenere viva la memoria di eh artisti letterati eh scienziati insomma quindi hanno un valore simbolico che spesso diventa anche un pochino il motore di iniziative ehm espositive di convegni di studi e quant'altro ecco la eh il duemila e venti appunto è il sono i duecentocinquant'anni dalla morte di Tiepolo e la nostra mostra di cui vediamo eh diciamo la copertina del catalogo nella nella slide a destra fa parte almeno diciamo di una di un gruppo di una eh gruppo di mostre che si sono inaugurati idealmente con una mostra molto bella che aveva un titolo se volete analogo al nostro Tiepolo in Milen The Lost Frescos of Palazzo Archinto una mostra organizzata alla Freak Collection di New York eh ancora nel duemila e diciannove in ragione della presenza di un bozzetto eh meraviglioso con Perseo Andromeda conservato nella Freak Collection che ha permesso al curatore della delle delle della della pittura del museo Xavier Salomon affiancato in quel caso da due specialisti dell'arte veneziana come ehm Andrea Tomezzoli e Danny Stone di eh montare una mostra dossier sulla vicenda di questo cantiere molto importante milanese che noi riusciamo a ricostruire attraverso una serie di disegni e di bozzetti eh ma anche attraverso una serie di fotografie storiche che permettono di documentare ehm lo stato degli affreschi prima delle distruzioni della seconda guerra mondiale con grande coraggio sulla copertina del catalogo eh gli amici di New York avevano omesso proprio una di queste fotografie storiche con questo bellissimo angelo in volo emblematico in qualche modo della 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 cultura eh dinamica e plastica di Tiepolo e a fianco la la copertina di un catalogo di un'altra mostra legata a questa ricorrenza una mostra organizzata dalla Stats Gallerie di eh Stoccarda eh che ha preso spunto dalla meravigliosa eh serie di disegni conservati nelle collezioni del museo disegni in relazioni in relazione soprattutto alle decorazioni di Wurzburg dove Gian Battista Tiepolo lavora con i figli Gian Domenico e Lorenzo a partire dagli anni cinquanta del settecento una mostra con un taglio più ambizioso perché pur diciamo partendo dal nucleo del museo ehm la mostra si proponeva di come una sorta di mini antologica del pittore seguendone le vicende dagli anni della formazione fino agli anni della maturità poi una mostra molto eh specifica molto molto bella molto intelligente molto nuova Venice in the North è una mostra organizzata organizzata pensate ad Helsinki al museo di Helsinki che restituiva eh si è chiusa da poco insomma purtroppo credo che sia stata visitata molto poco perché eh diciamo la mostra è stata aperta proprio nei mesi più duri della eh pandemia e e la mostra era l'occasione per restituire i rapporti di Tiepolo con le corti del nord Europa con la con la corte di Svezia ma con le con la corte Moscovita ma anche restituiva la fortuna collezionistica di Tiepolo fra eh sette ottocento e novecento in alcuni centri dei eh paesi scandinavi e poi la nostra mostra che in qualche modo ha eh come dire una una un'ambizione limitata se vogliamo o vale a dire cercare di capire il 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 ruolo di Milano la centralità di Milano nel nel percorso di Tiepolo ma che ugualmente insomma eh fatto luce su alcune vicende che riguardano la formazione di Tiepolo la messa a punto del suo repertorio senza uguali di storie classiche raccontate con fantasia e intelligenza senza uguali e ehm e poi naturalmente la eh Milano come eh antefatto fondamentale della fortuna del pittore eh in Europa ecco eh sotto invece mostre del passato legate a un altro centenario quello della nascita di Tiepolo mostre che in qualche caso sono irripetibili insomma bisogna sempre pensare che le mostre devono essere come dire devono avere ambizioni adeguate agli spazi che devono occupare alle possibilità organizzative e anche alla possibilità di offrire un taglio innovativo insomma no? È difficile fare una mostra tutto Tiepolo con tutti i grandi capolavori del mondo se non si è un grande museo come il Metropolitan Museum di New York a cui si deve come dire la guida di una mostra del 1996 eh quella con eh l'ovale diciamo in copertina che vediamo qui a sinistra una mostra che il Metropolitan ha organizzato con le gallerie dell'Accademia di Venezia con i musei di Venezia e che è una mostra che si avvaleva del fatto che al Metropolitan Museum di New York ci sono i più importanti bozzetti per le decorazioni di Wurzburg e di Madrid ci sono alcune delle tele fondamentali del ciclo per Palazzo Dolfina Venezia con storie della eh della della Roma repubblicana e e e quindi come dire è il luogo attraverso il quale si può ricostruire il puzzle dell'attività di Tiepolo a fianco un catalogo invece di una mostra fatta ehm in Francia a Parigi che indagava come dire particolarmente Tiepolo sotto eh diciamo così il riflettore della fortuna francese del pittore fra eh collezionismo e ehm vicende anche diciamo così di ehm acquisti antichi e moderni ecco quindi eh la la prospettiva di una della nostra mostra va affrontata pensando in qualche modo anche a quello che è avvenuto più o meno eh nello stesso periodo in altri centri ehm europei e e non solo. La mostra si apre emblematicamente con tre vedute delle città che accolgono Tiepolo in momenti diversi della sua vita. Venezia la città della sua formazione documentata attraverso una bellissima veduta di Canaletto eh Milano documentata dalla da un quadro molto celebre di Bernardo Bellotto ecco un altro artista veneziano eh chiamato a Milano e in qualche modo per la prima volta impegnato fuori dai confini della della Serenissima eh proprio nella città lombarda prima che il pittore abbia fortuna a Torino a Dresda in molte a Vienna eh in Polonia insomma in molti altri centri europei e in sotto e sotto la 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 veduta diciamo panoramica di Antonio Ioli che eh restituisce una veduta della città di Madrid con il Palazzo Reale sullo sfondo a testimoniare come dire l'ultima tappa dell'affermazione del pittore ehm in Europa. Eh dopo questo preambolo la mostra eh diciamo entra eh in Medias Res e presenta ehm attraverso una serie di di disegni di nudo eh attraverso quindi un genere insomma il nudo accademico che è una lo studio dal vivo del nudo che è un elemento fondamentale diciamo della dell'esercizio eh di formazione di un artista fin dal cinquecento ma che eh proprio fra sei e settecento troverà una 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 fortuna non solo nelle accademie pubbliche ma all'interno delle botteghe degli artisti e a Venezia sono moltissime le botteghe degli artisti che accolgono ehm negli anni della formazione gli artisti per esercitarsi su questo esercizio fondamentale tra le quali la bottega di Gregorio Lazzarini il misconosciuto e in qualche modo l'abbandonato eh maestro di Gian Battista Tiepolo un eh pittore eh che che naturalmente non è all'altezza dell'allievo ma che permette a Tiepolo eh un'educazione legata in qualche modo alla eh robusta al robusto esercizio eh dello studio dello studio accademico del nudo della ehm regia compositiva molto articolata insomma questo meraviglioso disegno giovanile di Gian Battista Tiepolo ci restituisce una eh un'occasione di incontro all'interno forse proprio della bottega di Gregorio Lazzarini dove gli artisti eh sono eh presenti a questa eh a questo esercizio accanto a curiosi accanto a viaggiatori insomma spesso i viaggiatori vengono accolti all'interno delle botteghe per assistere a questo esercizio fondamentale vedete la luce che cade dall'alto e che permette ai eh agli artisti di cogliere come dire il chiaroscuro che ci deve essere per definire le masse muscolari e quant'altro. Ecco questa è una rassegna diciamo non completa dei disegni presenti in mostra che ci restituisce anche la vivacità di Venezia ehm negli anni della formazione di Tiepolo. Noi sappiamo che Venezia per tutto il Seicento è un pochino ripiegata su se stessa vive un po' sulla sulla sulle glorie cinquecentesche apre molto agli stranieri insomma no da Johann Liss a Cagnacci ehm al tedesco Lotto insomma sono molti gli artisti di fuori che nel corso del Seicento Luca Giordano insomma contribuiscono alla diciamo ehm revisione in qualche modo della eh della grande tradizione veneziana del Cinquecento di Tiziano Tintoretto veronese e a fine Seicento Tiepolo si confronta con artisti locali come Gian Battista Pittoni come Piazzetta ehm come il veronese Antonio Balestra ma anche con artisti che vengono da fuori e che vengono invitati in quella città a eh lavorare fra i quali il francese Luido Rigny un grande maestro nel campo dell'affresco il lombardo Paolo Pagani che a Venezia eh si ferma per quasi vent'anni insomma negli anni della sua formazione della sua prima maturità eh il dalmata eh Federico Bencovici un alter ego di Gian Battista Piazzetta e e quindi ecco noi vediamo in questa stanza eh come eh vada maturando la sensibilità per restituire corpi in atteggiamenti diversi scorci differenti figure viste da tergo e da eh dal fianco e da eh frontalmente proprio per mettere appunto ehm le invenzioni che troveranno poi all'interno dei eh dei dipinti su tela e degli affreschi di Tiepolo una ehm diciamo una eh eh matura una matura eh prova realizzativa. A confermare come dire l'importanza dello studio del nudo per mettere appunto eh le proprie invenzioni eh i disegni eh di di Tiepolo sono messi in relazione nella stessa sala con alcune prove giovanili molto note le due eh mitologie giovanili due delle quattro mitologie giovanili delle delle gallerie dell'Accademia di Venezia dove vediamo naturalmente messe in opera eh le invenzioni che eh Tiepolo ehm aveva studiato sui fogli di Accademia e poi come dire con uno sguardo verso Piazzetta purtroppo quel nudo femminile di Piazzetta non è in mostra eh i nudi femminili sono molto più rari come voi sapete perché è solo quando si poteva eh disegnare dal vero la propria moglie o la propria amante che gli artisti riuscivano a come dire catturare ehm gli atteggiamenti delle figure femminili ma noi vediamo come Tiepolo chiaramente nella figura riversa a terra sulla spiaggia del Ratto di Europa eh rimediti ehm su una su una figura di di nudo femminile come la meravigliosa figura accovacciata di Piazzetta sempre del gabinetto di disegni di Venezia. Ecco sempre nella sesta assenza iniziale eh questo bozzetto sulla destra di Gian Battista Tiepolo ci fa capire che naturalmente lo studio del nudo non è solo in funzione di opere profane ma è anche in funzione di eh opere sacre la figura eh eh diciamo che poi verrà panneggiata deve essere studiata con le muscolature giuste con le proporzioni giuste con i volumi giusti e poi rivestita di panni insomma no i i corpi ehm devono diciamo così essere veri e solo a quel punto la figura si muoverà eh con la eh con le giuste coordinate con 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 la giusta sensibilità di movimento. Questo bozzetto meraviglioso è legato a una commissione dove Tiepolo sfida alcuni artisti eh suoi coetani, suoi contemporanei e sarà Piazzetta poi ad essere scelto per mettere in opera ehm ad affresco l'invenzione con la gloria di San Domenico e qui sulla sinistra vediamo appunto la realizzazione ehm dell'opera di Piazzetta che in questo caso ci fa ancora come dire eh percepire come dire la sua educazione bolognese no? Sembra un po' eh quella quella invenzione delle figure che appoggiano eh sul cornicione e che sono di una proporzione più ampia rispetto a quelle che più sfocate si disperdono sullo sfondo sono un pochino una una rivisitazione delle eh invenzioni di Crespi in Palazzo Pepoli Campogrande a Bologna. E ecco lo vedete ha una un'idea diversa molto più eh diciamo variata dal punto di vista delle invenzioni. Dispone lungo tutto il cornicione della della cupola lungo tutto la cornicione della cupola le le figure atteggiate in modo diverso che diciamo sono si abbracciano come dire all'elemento architettonico lo scavalcano lo lo compenetrano in qualche modo e ci restituisce questa sua capacità di studiare le figure con scorci arditi e e con scorci sempre variati che costituirà in qualche modo un elemento sempre molto ben riconoscibile della eh sua qualità inventiva. Vedete anche l'idea bellissima delle quattro allegorie ehm cristiane del a monocromo nel del nei pennacchi della della cupola giocati nel monocromo e questa grande varietà cromatica eh di di questo eh grande pittore esordiente. Ecco poi le mostre sono anche l'occasione per provare a giocare fatti nuovi insomma per provare a giocare carte nuove e la carta che noi abbiamo voluto giocare è quella di eh appunto immettere eh nel circuito dei precedenti importanti per Tiepolo la figura di Paolo Pagani di cui abbiamo già visto il ruolo nella sala dei disegni e di cui presentiamo questi due quadri spettacolari eh della collezione Etro che eh ci permettono di capire la qualità di questo pittore che era stata avvistata dalle fonti veneziane ehm che ci ricordano come Pagani introdusse nelle accademie del nudo di Venezia un certo modo caricato eh di fare i nudi che non si era visto mai prima insomma e qui vediamo in queste due composizioni eh che eh da una parte ci restituiscono questo nudo femminile riverso con una eh diciamo un gesto atletico straordinario sembra un salto un salto all'indietro eh della 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 vecchia scuola insomma un salto in alto della vecchia scuola e eh al contrario nel dipinto che gli fa da Pandan una eh diciamo dei dei un nudo più raccolto eh una composizione serrata che ci restituisce in qualche modo delle composizioni come dei grandi gruppi scultori naturalmente eh il rato di Elena eh è un tema iconografico molto esplorato dagli scultori dai pittori prima eh prima di Paolo Pagani ma è difficile trovare una eh diciamo una costruzione così dinamica una un'idea così eh diciamo vorrei dire quasi disarticolata di eh studiare eh il nudo in movimento sono ehm sono dipinti che ci restituiscono le qualità inventive di questo artista che deve avere contato qualcosa per eh gli anni giovanili di Tiepolo ehm Paolo Pagani ed è cosa nota è il maestro di Antonio Pellegrini un altro dei grandi maestri veneziani eh negli anni in cui Tiepolo eh si forma e si afferma e questo quadro giovanile di Antonio Pellegrini ci restituisce molto bene eh l'eco delle invenzioni del suo maestro Paolo Pagani ecco abbiamo pensato di mettere in dialogo eh queste opere eh pittoriche di Paolo Pagani con questo quadro giovanile ben noto di Gian Battista Tiepolo che ha fatto impazzire gli studiosi di iconografia che inizialmente avevano pensato si trattasse del ripudio ehm di Agar insomma ma in realtà eh gli studi più recenti hanno immaginato che qui sia un soggetto raro della storia romana ad essere interpretato da Tiepolo il momento in cui rea Silvia la madre di Romolo e Remo viene eh invitata ad ad entrare nel Tempio di Veste a quindi a scegliere la verginità perenne dalla ehm fratello del padre malevolo che in qualche modo non vuole non vuole farla procreare e diciamo questo gesto bellissimo questo tuffo a terra un tuffo in avanti e non all'indietro come nel caso di Paolo Pagani ci restituisce però la stessa lo stesso ardore compositivo la stessa intelligenza eh fuori da ogni diciamo regola vista fino a quel momento fuori da ogni schema eh precedente di queste di queste figure che assumono eh diciamo atteggiamenti imprevedibili grazie alla ehm all'ardimento dell'invenzione ecco un altro momento fondamentale eh della 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 formazione di Tiepolo il confronto con Piazzetta all'interno di questo cantiere eh cruciale nella Venezia degli anni venti la chiesa di San Stai dove lavorano tutti i migliori talenti veneziani il maestro di Tiepolo anche Gregorio Lazzarini Sebastiano Ricci Antonio Balestra Pellegrini ma Tiepolo eh tiene testa in qualche modo si confronta eh con con Piazzetta gli interessa l'energia compositiva di Piazzetta gli interessa la l'intelligenza chiarosculare il plasticismo insomma no che restituisce in qualche modo gli echi degli insegnamenti di eh Giuseppe Maria Crespi e in qualche modo rivisti attraverso eh la lezione di un grande maestro del del nord Europa Johan Liss che ha una grande fortuna a Venezia e di cui sicuramente Piazzetta eh diciamo si fa vedere pronto allo studio insomma ecco vediamo che se dal punto di vista della forza plastica i due quadri stanno molto bene insieme Tiepolo ha una irrequietezza compositiva maggiore gioca quella figura in quella eh in quella diagonale molto forzata questa questo ritmo un po' un po' un po' meno solido un po' come basculante da un certo punto di vista e anche le luci sono molto più mobili rispetto a quelle di Piazzetta e di nuovo in anche in questo caso diciamo il confronto con Paolo Pagani eh eh è utile da eh valutare proprio in funzione anche di questa eh realizzazione. Poi eh come dire una volta messa a punto la propria eh diciamo il proprio stile la propria lingua Tiepolo comincia ad essere impiegato per eh la decorazione di alcuni grandi palazzi della città di Venezia insomma no? La la sua capacità non solo tecnica ma anche di governare le storie del passato in funzione della celebrazione dei committenti lo rendono eh il pittore giusto al momento giusto perché eh Venezia in quel momento è una città in grande trasformazione vecchie famiglie eh consolidano il proprio primato è il caso dei Dolphin appunto i committenti del grande ciclo diviso oggi fra Vienna, New York e l'ermitage di San Pietroburgo eh ma anche i committenti di Tiepolo a Udine nel palazzo patriarcale appunto eh ma anche famiglie nuove come gli Zenobbio eh una famiglia che in qualche modo si impone eh fra la nuova nobiltà in seguito alla necessità da parte di Venezia di eh finanziare le proprie guerre contro i turchi e quindi come dire eh i titoli nobiliari vengono dispensati nella la seconda metà del seicento e di Zenobbio sono tra i fortunati eh diciamo nuove che fanno nuovo ingresso nella nobiltà veneziana e quindi la prima cosa che bisogna fare edificare un palazzo, comprarne uno e rimetterlo in buon ordine, montare delle collezioni e fare decorare il proprio palazzo ai grandi maestri eh eh contemporanei. In questo palazzo lavora il francese Luido Rigny in questo eh in questa medaglia spettacolare. In questo palazzo Tiepolo esegue una serie di tele che in parte presentiamo in mostra fra le quali il meraviglioso trionfo di Aureliano della Galleria Sabauda che ci restituisce l'idea un po' bizzarra del tema iconografico perché eh in catene davanti al caro di Aureliano vediamo la regina orientale Zenobia quindi una eh una regina che ha un'assonanza con il cognome dei committenti ehm che in qualche modo però esce sconfitta da questa da questa sua sfida all'impero romano ma di fondo probabilmente gli Zenobbio che sono diciamo dei parvenù fra virgolette sono sono arrivati ehm nella nella nobiltà da poco vogliono in qualche modo ehm restituire una vicenda di eh superbia insomma no l'idea che questa regina sfidasse l'impero romano è un atto di superbia che viene punito e quindi hanno questo esempio davanti ai loro occhi per tenersi lontano dalla eh diciamo dagli atteggiamenti superbi e e in qualche modo non ehm non adeguati ecco vediamo come Tiepolo riesca a dare vita alle storie antiche con una regia teatrale molto spettacolare insomma i costumi eh ma anche l'attrezzatura di scena più minuta le insegne eh le armature ehm le bardature dei cavalli insomma è proprio una qualità eh diciamo da cinema scope è una veramente un'idea quasi cinematografica che ci restituisce eh una una la capacità di Tiepolo di rendere di rendere di rendere vive di rendere quasi attuali eh storie eh storie del passato è un po' il clima anche del contemporaneo melodramma insomma no eh Metastasio, Apostolo Zeno, alcuni dei grandi autori dei melodrammi che vengono eh messi in scena nelle corti di tutta Europa lavorano su eh i grandi temi della storia classica e quindi le storie di Scipione, le storie dei grandi del passato costituivano un elemento fondamentale di svago ma anche di educazione per il pubblico del tempo. Questi sono altri due quadri eh spettacolari legati allo stesso ciclo di Palazzo Zenobbio eh probabilmente eseguiti in un momento successivo è un cantiere che si prolunga un pochino nel tempo soprattutto il meraviglioso Cacciatore a Cavallo è una testimonianza delle qualità inventive di Tiepolo. Vedete come ehm la figura si volta si volta verso di noi e quasi cerca il nostro sguardo con un impeto che ricorda Rubens insomma. Tiepolo è una è una è un'artista che soprattutto attraverso le stampe eh studia i maestri del passato e non solo quelli della propria tradizione insomma studia appunto su 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 le opere di Rubens e studia sulle opere di Rembrandt, di Crichetto insomma è un pittore che face di ehm continuamente di prendere spunto dagli eh grandi esempi del passato. Un altro eh importante è un'altra importante commissione veneziana Palazzo Sandi, un'altra famiglia di nuova nobiltà veneziana, i Sandi sono degli avvocati, in questo caso esiste ancora una fresco, lo riproduco solo per memoria e per valutare anche la scelta iconografica, è un'allegoria un'allegoria del potere dell'eloquenza eh i Sandi sono una famiglia di avvocati e quindi naturalmente l'eloquenza e in generale come dire eh l'astuzia sonate in questo caso da Ulisse costituiscono un elemento importante diciamo di ehm di autoaffermazione o di di autocelebrazione, sono di di buon augurio ecco questa è una tela spettacolare, sono eh in questa questa sala dedicata alla prima affermazione di Tiepolo come grande narratore di storie antiche ehm comprende quadri eh spesso di oltre tre metri che stanno bene insieme credo e eh questo dipinto che è stato restaurato per l'occasione ci restituisce le qualità cromatiche di un Tiepolo che eh pressoché negli stessi anni in cui riscopre il colore di Veronese negli affreschi del palazzo patriarcale di Udine eh proprio in questo quadro ci fa capire come ehm sappia come dire eh non più guardare i suoi contemporanei ma anche guardare i grandi maestri del passato e a Veronese in particolare anche per il ritmo compositivo di questa scena eh dove Tiepolo abbandona quei ritmi accelerati e ehm ed esegue un dipinto eh come dire di 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 grande euretmia, di grande armonia, di grande simmetria insomma no? E con con il ricordo appunto davanti agli occhi di opere di Veronese come eh le le diverse eh redazioni della eh ritrovamento eh di Mosè che poteva avere avuto eh eh Tiepolo sotto eh sotto figlio ecco questo è sono altri due quadri è un in qualche modo rimontato nella stanza proprio c'è una parete così con la scena eh di Ulisse che eh di disvela Achille ehm alla corte del relico mede sotto vesti femminile per mandato dai greci perché Achille eh deve intervenire assolutamente nella battaglia di Troia nella nella guerra di Troia e accanto due scene mitologiche che restituiscono eh come dire atti di forza non più di eh di astuzia, di eloquenza ma altrettanto importanti in qualche modo nella nell'idea di dei eh dei committenti. Ecco la mh questa diciamo prima parte della mostra eh come dire ci restituisce la formazione la prima affermazione di Tiepolo prima del suo passaggio a Milano ma il passaggio di Tiepolo a Milano è come anticipato dalla eh precedente eh presenza di un altro grande veneziano eh scoperto dai milanesi alla fine del seicento Sebastiano Ricci. Ecco è non è una cosa nuova riguarda anche Bologna non solo Venezia gli artisti italiani ma non solo i pittori gli scultori gli architetti ma anche gli scenografi i cantanti i musicisti ehm sono ricercatissimi dalle corti d'Europa nel Settecento e ehm e quindi come dire i viaggi di questi artisti non si contano insomma sono eh artisti eh davvero sempre con la valigia in mano e la cosa che è molto interessante è che molto spesso Milano si fa trovare pronta a ospitare eh questi artisti nelle prime occasioni di lavoro fuori dalla eh dalla dalla Serenissima fuori da Venezia e ehm Sebastiano Ricci in realtà eh per ragioni anche diciamo legati alla giustizia insomma si era allontanato da Venezia era stato a Parma e a Bologna ehm e a Roma ma come dire eh Milano si trova pronta alla fine del Seicento a ingaggiarlo per l'esecuzione eh di questo meraviglioso affresco nella chiesa di San Bernardino alle ossa questo ossario che è anche un capolavoro del barocco macabro ehm dal punto di vista della della storia della decorazione di interni e e naturalmente eh qui eh Sebastiano Ricci è eh forte delle esperienze su Correggio riviste però attraverso gli esempi della pittura barocca romana insomma di Pietro da Cortone di Gaulli. In mostra abbiamo due opere molto celebre di Sebastiano Ricci due ricordi delle dei pennacchi della cupola di San Bernardino alle ossa arricchiti da questi paesaggi così eh così drammatici e veramente moderni eh che ehm costituiscono appunto un una seconda una redazione per il collezionismo delle stesse invenzioni. Qui vediamo appunto la la riedizione eh dipinta della del pennacchio affrescato con eh questa figura di San Martire e in questo caso un San Martire che riconosciamo per la freccia San Sebastiano eh una riedizione per un collezionista milanese un committente milanese la famiglia che poi diventerà una grande eh diciamo una una grande promotrice dell'attività di Tiepolo la famiglia dei clerici che ehm fa eseguire a Sebastiano Ricci che a Milano si 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 ferma per due anni fra il 1694 e il 1696 un ricordo della eh del 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 pennacchio di San Bernardino alle ossa. Ecco di Sebastiano Ricci qui è la il palazzo che vi ospita abbiamo anche in mostra due quadri riscoperti eh da pochi anni eh e restaurati per l'occasione due quadri che ci presentano un Sebastiano Ricci a a un a un altro un altro in un'altra fase della sua carriera un Sebastiano Ricci arcadico in qualche modo di una colorazione molto più pastello molto più tenue eh due quadri spettacolari che ci restituiscono in qualche modo il dialogo del pittore veneziano con i committenti milanesi hm anche come dire molti anni dopo il suo soggiorno documentato a Milano insomma due quadri spettacolari in cui Ricci sta in dialogo con ehm Gian Antonio Pellegrini. Ecco in questo stesso palazzo nel Pazzo Cusani eh si conservano quattro ovali eh eseguiti da Marco Antonio Franceschini e dalla bottega Milano come dire è sempre divisa con nei propri sguardi gli artisti milanesi e i committenti milanesi sono un po' divisi fra fra Venezia e Bologna a cavallo fra sei e settecento eh Franceschini con il suo eh allievo Quaini lavora in molte occasioni a Milano e Lombardia e all'interno di questo palazzo esegue una serie di tondi di ovali scusate che nel passato credevo nati in serie con eh i due quadri di Sebastiano Ricci perché hanno misure analoghe ma l'identità dei soggetti di queste due tele cioè che sono praticamente eh due tele di identico soggetto Bacco e Arianna fanno 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 un po' difficoltà a a credere che si tratti di una serie eh nata nello stesso momento è molto più probabile che Franceschini esegua ehm la sua serie di quattro tele dopo che Ricci ha eseguito eh i quadri e in qualche modo riveda se volete anche l'invenzione di Sebastiano Ricci con diciamo quella semplificazione filo classicista che è molto tipica della eh della eh sua cultura ecco Tiepolo e Milano dicevo naturalmente la grande occasione della mostra della Free Collection una mostra di grandissima intelligenza molto coraggiosa che sarebbe stato anche bello poter eh portare a Milano e mh in quell'occasione era emerso un dato che eh sia diciamo su cui si è fatto luce negli studi degli ultimi eh decenni insomma vale a dire che Tiepolo prima di lavorare ad affresco in Palazzo Archinto prima di raggiungere Milano fisicamente quando si lavora ad affresco bisogna essere fisicamente in un luogo non è come quando si dipinge su tela che eh a quel punto si possono spedire le opere realizzate prima di lavorare ad affresco in Palazzo Archinto Tiepolo lavora come eh disegnatore per l'editoria e eh lavora per un gruppo di eh diciamo intellettuali raccolti intorno alla figura di Ludovico Antonio Muratori e pro diciamo protetti da alcuni nobili milanesi fra cui appunto un membro della famiglia Carlo Archinto eh che danno vita a una tipografia una iniziativa editoriale eh privata la società Palatina che ehm pubblica vari libri ma soprattutto nell'idea di ehm nell'idea di eh muratori eh è la casa identitrice della sua opera magna vale a dire eh i rerum italicarum scriptores vale a dire quella silloge di eh fonti medievali che proprio muratori ha idea per renderle forse meno noiose più vendibili di far illustrare a Tiepolo insomma e quindi noi conosciamo eh una serie di vignette eh di eh testatine ma anche di iniziali ehm disegnate da Tiepolo per la serie dei volumi eh di eh muratori. Ecco questa iniziativa di muratori rende Milano davvero una città ehm internazionale perché intorno a questa impresa muratori coinvolge altri grandi intellettuali italiani come Scimpione Maffei da Verona come Apostolo Zeno da Venezia e noi siamo sempre abituati a considerare Milano come nel Settecento come la città dei Verri di Cesare Beccaria insomma la 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 città della scuola di Milano che intorno agli anni Sessanta viene accolta a Parigi dai dagli enciclopedisti insomma da Diderot ehm come diciamo faro nell'Europa del tempo ma prima di questo momento cruciale eh come dire naturalmente mh ci sono molti fatti che hanno preparato questa eh questa maturazione così moderna della dell'Accademia dei Pugni e della e della scuola di Milano legata appunto alle figure dei Verri e di Cesare Beccaria e credo che appunto la società palatina e la figura di Ludovico Antonio Muratori costituisca un un importante precedente per la ehm per la diciamo modernizzazione se vogliamo della città per la per l'apertura della città verso eh il mondo della eh della della nuova eh cultura europea e mh Tiepolo esegue come vedete ehm dei disegni per anche altre pubblicazioni in questo caso quest'incisione è legata eh la celebrazione di Carlo VI ed è l'antiporta di un volume eh sulla diciamo di numismatica di storia eh di di antiquaria eh ma poi come vi dicevo eh ehm Tiepolo esegue in qualche modo una serie di eh disegni in funzione della Ererum Italicano Scriptores. Questi disegni erano stati esposti alla mostra di New York e non abbiamo pensato di naturalmente di evitare di ripercorrere i passi di quella mostra ma però è è molto interessante capire che prima che Tiepolo venga a Milano a nel 1730 ehm già negli anni venti eh è in contatto con gli ambienti ehm culturali e la società milanese insomma Tiepolo quindi ha una lunghissima consuetudine con eh la città di Milano a partire appunto dalle iniziative della società palatina. Ecco e il grande promotore della società palatina Carlo Archinto eh la cui biblioteca è sempre un centro di interesse da parte dei viaggiatori che 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 passano da Milano ehm concretizza il rapporto con il suo disegnatore illustratore e invitandolo a dipingere nel proprio palazzo di città. Le opere di Tiepolo e di molti altri artisti eh eseguite tra il 1730 e il 1731 sono andate distrutte durante eh la seconda guerra mondiale ma eh noi possediamo non solo queste fotografie che ci restituiscono i danni irriversibili eh del dell'esterno e degli e degli e degli interni del palazzo ma possediamo anche una serie di eh fotografie che ci restituiscono eh le compagne decorative eh all'interno del del palazzo da parte da da parte di Tiepolo insomma il cui unico frammento lo vediamo eh è conservato eh nella nelle collezioni del castello sforzesco eh di Milano è un frammento che ci restituisce quasi di più le qualità del quadraturista il bolognese Stefano Orlandi eh perché come dire la eh la come dire la 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 parte che spetta Tiepolo è completamente persa insomma perlomeno i volti o rimane solo eh come dire una 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 parte della figura e eh dei eh dei puttini in volo insomma la parte che rimane eh come dire voi la vedete nel nel nell'origine nella fotografia subito al fianco insomma questo frammento era di difficile mobilità di movimentazione e in più non era particolarmente significativo per per perché fosse perché fosse esposto non è stato esposto alla Frick non è stato esposto alla nostra mostra ecco questo era il è il bellissimo bozzetto della Frick Collection che è stato un po' il motore della mostra new yorkese è un quadro che per volontà del del fondatore della raccolta non può andare in prestito quindi non è eh esigibile non non si può chiedere in prestito e e così come naturalmente l'iniziativa della mostra eh new yorkese ci ha eh diciamo reso un pochino difficile avere anche questo altro bozzetto che si conserva in in America che era appena stato alla mostra della Frick che non ci è stato prestato siamo riusciti però ad avere un bozzetto per l'affresco eh in qualche modo più si più significativo almeno dal punto di vista del tema insomma no un bozzetto che si conserva a Lisbona di cui abbiamo anche un disegno preparatorio eh in funzione delle delle figure centrali insomma che è in mostra e che si conserva al Museo Civico Sartorio di Trieste una una cava molto importante di disegni di Tiepolo e ecco una una fresco cioè un bozzetto in relazione alla alla a un affresco che emblematicamente restituisce questa diciamo vivacità culturale della Casa Archinto insomma no per per il possessore di una grande biblioteca per il promotore di iniziative editoriali che hanno eco in tutta Europa eh il un un diciamo il trionfo delle arti e delle scienze è proprio in qualche modo quasi una un tema programmatico vediamo come Tiepolo gioca eh come dire eh sfonda i contorni della della medaglia da fresco immagina eh come dire di eh fare di fare uscire delle nuvole delle figure dal dal contorno della medaglia per occupare gli spazi anche eh eh destinati alle quadrature insomma per quel gioco illusionistico di sovrapposizioni fra parte figurata e parte eh prospettica che riguardano in in generale eh le le grandi le grandi decorazioni sese centesche ecco poi naturalmente e e e lo e lo saprete bene insomma al palazzo Archinto eh arriva insieme al quadraturista Stefano Orlandi Vittorio Maria Bigari ehm vi dicevo appunto che Bologna è una seconda è una è una è un secondo asse di riferimento per i committenti e gli artisti milanesi molti artisti milanesi si formano a Bologna e Bigari viene chiamato eh non è azordiente insomma già lavorato eh in palazzo Aldrovandi ha lavorato a Bologna già in molte occasioni viene ha chiamato e lavora in molti eh ambienti di eh palazzo Archinto opere quasi tutte distrutte e e la cosa naturalmente molto interessante sono state a lungo ritenute di Tiepolo eh con un'idea appunto eh diciamo del del gatto grande che si mangia il gatto piccolo che ehm ha in qualche modo avuto eh diciamo analoghi risultati anche nei confronti dei numerosi maestri lombardi attivi eh in molti cantieri eh lombardi che sono stati quasi tutti a un certo punto eh fra fine ottocento e inizio novecento quando il nome di Tiepolo è nome fondamentale in tutta Europa eh nel mondo dei degli artisti ma anche dei collezionisti e degli scrittori eh degli scrittori d'arte e e quindi molte opere di artisti lombardi sono state trasfigurate sotto il nome di Tiepolo in virtù della necessità di eh eh avere come dire sotto gli occhi un'opera di questo grande maestro eh e quindi come dire tutto il settecento lombardo tutto il settecento milanese è diventato tiepolesco quasi anche se in realtà ehm eh diciamo l'eco eh di Tiepolo fra i maestri lombardi non è così eh forte insomma contano quasi più i maestri bolognesi dei maestri lombardi ancora dei di Tiepolo scusate per eh per gli artisti lombardi ecco l'unico affresco e malandato Ligari si conserva ancora staccato e conservato eh in questo nel palazzo insomma oggi sede eh di un liceo è questa verità svelata dal tempo ehm che idealmente eh vediamo qui a confronto con allegoria della nobiltà di Tiepolo un Tiepolo come dire ehm un pochino meno chiassoso del solito in quella figura allegorica ecco vi dicevo insomma come il nome di Tiepolo diventa un passepartout per ogni decorazione questo è un affresco che si conserva all'isola bella nel palazzo Borromeo che appartiene al maestro lombardo filo bolognese che si chiama Giovanni Antonio Cucchi e che naturalmente viene trasferito a un certo punto dal palazzo di città dei Borromeo a questa residenza molto importante sul Lago Maggiore con l'idea che si tratti di una di un'opera di Tiepolo insomma ecco vi dicevo come eh Bologna sia un punto di riferimento fondamentale per gli artisti milanesi e e e come di fondo lo sguardo verso Bologna sia più eh diciamo ricco di conseguenze rispetto allo sguardo di Tiepolo che è un una 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 stella che splende per per diciamo nella nella città senza che eh ci sia un eco determinata della sua presenza. Il caso di Pietro Antonio Magatti questo artista lombardo che eh noi sappiamo essere allievo di Giovanni Giuseppo dal Sole eh a Bologna e che soprattutto nell'ovale sulla destra restituisce come dire la qualità di un artista che si può facilmente paragonare eh con Francesco Monti insomma con eh maestri bolognesi eh suoi eh contemporanei o ancora un altro maestro bolognese un altro maestro lombardo filo bolognese Giovanni Angelo Borroni eh che eh di nuovo accanto a Conti eh accanto a Monti si trova eh nella bottega ehm di Gian Giuseppo dal Sole ma anche di Marco Antonio Francesco ecco quindi eh l'idea insomma che un po' come tutto il primo seicento è caravaggesco tutto il primo settecento sia tiepolesco è un'idea come dire un pochino forzata e è una scorciatoia insomma no non non basta che eh ci siano appunto figure in scorciarditi ehm opere dalla colorazione brillante per dire Venezia per dire Tiepolo insomma e in generale vediamo che eh il ritmo compositivo è molto più misurato sia in questi maestri filo bolognesi in questi maestri lombardi filo bolognesi sia come dire nei maestri bolognesi coedi. Ecco la Tiepola Milano esegue quasi solo affreschi quindi per documentarlo eh bisognava o avere dei bozzetti o avere dei disegni o avere degli affreschi in carne e ossa laddove la fortuna eh permetteva di eh avere affreschi staccati o strappati dalle superfici originarie per motivi diversi insomma è il caso di questi affreschi staccati ehm che si conservano anzi strappati e quindi con con un'operazione eh più meccata più distruttiva da un certo punto di vista anche se la pelle degli affreschi è ancora molto buone sono stati restaurati per l'occasione stanno in una chiesa molto importante della città la basilica di Sant'Ambrogio ma sono sono praticamente invisibili nella cappella dove oggi si conservano. La cosa però interessante è che verso la fine dell'ottocento nel momento in cui si vuole cercare come in molte altre parti d'Italia la pelle medievale dell'edificio della basilica di Sant'Ambrogio eh si procede quindi a molte distruzioni ma nel caso di questi affreschi si decide a uno stacco preventivo a uno strappo conservativo insomma perché Tiepolo è un artista molto amato ehm eh diciamo dagli dagli artisti della città insomma e dai collezionisti e e quindi eh non si possono distruggere questi suoi eh importanti documenti figurativi quindi è una 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 testimonianza anche della fortuna di Tiepolo e della delle vicissitudini conservative eh di alcune sue opere. Ecco là eh come dire l'opera emblematica di Tiepolo e qui come dire vi faccio vedere solo il luogo dove si conserva la fresco eh palazzo clerici a Milano è un una un ambiente eh diciamo sviluppa una galleria sviluppata in senso longitudinale longitudinale arricchita da ehm da intagli da specchi secondo eh come dire un gusto degli interni tipicamente eh di eh metà eh di metà settecenti. cento. Per questa eh composizione noi conosciamo un bozzetto che abbiamo in mostra questo forse è uno dei quadri più straordinari della mostra. La mostra riapre da domani e naturalmente non c'è immagine, non c'è fotografia, non c'è diapositiva che possa restituire la qualità di luce, la qualità di conservazione, la qualità di tessitura cromatica di questo eh di questo dipinto che vedete emblematicamente restituisce eh la figura di Apollo che irrompe in scena ehm Apollo è una divinità molto amata dai committenti del settecento, è una divinità civilizzatrice, è una divinità che emblematicamente ci restituisce come dire la passione per la ragione insomma del eh di un certo settecento illuminista e vediamo che ehm Apollo irrompe all'interno di questa mandorla eh dorata di mandorla luminosa e si fa largo in in mezzo ad altre divinità disposte a cerchio intorno a lui ma poi disposte negli angoli con diciamo eh proporzioni più accentate accentuate con plasticismo più ehm deciso e c'è quell'idea bellissimo dell'illusionismo di una finta cornice eh intorno alla quale le figure giocano eh scavalcandola insomma secondo quel gusto diciamo di illusione tipicamente eh barocco che di cui Tiepolo è un grandissimo inventore. Questo bozzetto in realtà è previsto, era previsto in origine per un altro ambiente del palazzo non per la galleria che poi Tiepolo si trova a dipingere e quindi naturalmente Tiepolo deve rivedere completamente il suo progetto nel momento in cui si trova a mettere in opera eh la sua invenzione eh da fresco. Vedete la eh la 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 galleria di di Palazzo Clerici ha un andamento eh fortemente longitudinale per questo per dare ordine alla composizione eh Tiepolo immagina con l'aiuto di un quadraturista di innestare due testate architettoniche che rendono un pochino più raccolto ehm raccolta la composizione ma la centralità razionale della del bozzetto del timbre che abbiamo in mostra lascia spazio qui a una dispersione a una prospettiva multifocale tipicamente Tiepolesca tipicamente settecentesca eh che in qualche modo rapisce continuamente il nostro occhio che si deve si deve muovere a trecentosessanta gradi per cogliere ehm le informazioni anche iconografiche. Tiepolo arricchisce moltissimo anche di eh figure, di elementi, introduce una serie di allegorie dei continenti che non erano previsti eh all'interno del bozzetto e soprattutto questa è una ricostruzione insomma che sulle pagine del catalogo abbiamo pensato di ehm restituire appunto eh e soprattutto si trova nella necessità di mettere a punto una serie di invenzioni per questo soffitto, il soffitto più grande sul quale lui aveva lavorato fino a quel momento insomma. Quindi ha bisogno di studiare le singole figure, ha bisogno di studiare i gruppi di figure in una serie di eh numerosissimi disegni a penna e inchiostro eh Bruno che si conservano in America eh ma anche in un album molto bello che abbiamo in mostra del Museo Horn, della Fondazione Horn di Firenze e noi riusciamo a capire qui come Tiepolo davvero stia elaborando eh invenzioni variate per mettere a punto questa macchina complessa, questa macchina illusionistica complessa. Guardiamo solo come per la figura di Apollo che intravediamo al centro dell'affresco sul 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 carro del sole immagini eh quattro diversi disegni eh con atteggiamenti diversi appunto uno più legato al bozzetto del Kimbel con le gambe, una visione frontale con le con le con le gambe aperte e altre invece più diciamo in atteggiamenti eh in atteggiamenti diversi. Ecco questa in basso il il foglio del tacchino horn che abbiamo in mostra e in alto invece disegni divisi fra eh il Metropolitan di New York e la Pierport Morgan Library del sempre di New York disegni che c'erano stati promessi ma a causa della pandemia non sono potuti arrivare. Ecco la cosa naturalmente molto interessante vedete anche come Tiepolo rielabori certe invenzioni che aveva messo ehm in opera eh in anni precedenti per la decorazione di Palazzo Archinto e la cosa molto interessante e lo sappiamo perché ce ne parlano le fonti insomma ehm Tiepolo raduna questi disegni di officina ehm e li conserva come libri di modelli che gli possono tornare utili in momenti diversi della della sua produzione insomma i figli che lo seguiranno in Germania e in Spagna come aiutanti di bottega raccolgono questi disegni per tipologie figuri singole gruppi di figure animali insomma con l'idea proprio di avere a disposizione un repertorio di modelli che potrà riessere che potrà essere riutilizzato quindi diciamo l'occasione di Palazzo Clerici non solo perché i temi sono simili insomma anche a Wurzburg ad esempio eh Tiepolo eh immagina di disporre lungo la cornice dello scalone eh le allegorie dei continenti eh ma questi disegni costituiscono un repertorio di immagini fondamentale che il cuore riutilizzerà vediamo il rapporto tra il bozzetto e l'opera finita che è qualche modo un rapporto ehm molto indiretto insomma perché Tiepolo deve rivedere completamente eh di diciamo così la la dovendo lavorare in spazi diversi la sua prima invenzione ecco però emblematicamente importante così come i disegni seguiranno serviranno a Tiepolo per lavorare ehm diciamo nelle tappe successive della sua fermazione in Germania e in Spagna è chiaro che eh anche la disposizione delle figure eh e la costruzione del 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 bozzetto per Palazzo Clerici troverà diciamo un aggiornamento ma uno schema secondo uno schema diciamo consolidato e abbastanza analogo nel grande eh bozzetto per l'affresco dello scalone di Wurzburg che si conserva al Metropolitan Museum di eh New York quindi ehm questa idea delle corni della della cornice dell'affresco che eh costituisce in qualche modo una specie di eh ancoraggio insomma no di eh piattaforma per le figure più terrene e invece nel cielo le divinità e le figure come dire più emblematiche eh della eh diciamo della celebrazione eh di Tiepolo mostra permette anche di mettere a fuoco un altro cantiere in cui Tiepolo ha un altro cantiere milanese in cui Tiepolo ha lavorato Palazzo Gallarati Scotti che qui vediamo l'immagine eh recente ehm Gallarati Scotti sono un'altra importante famiglia eh milanese e questo è un pastello tradizionalmente attribuito a Rosalba Carriera che abbiamo voluto presentare perché pur non essendo della carriera è verosimente eseguito da un artista veneziano e e e soprattutto ci restituisce probabilmente l'effigio del committente di Tiepolo o del figlio del committente di Tiepolo. Tiepolo spetta questo affresco di nuovo un affresco in torneossa che riusciamo a esporre grazie al fatto che in durante eh diciamo a ridosso dei dei bombardamenti su Milano del 1943 con grande preveggenza il proprietario eh del palazzo ha avuto l'idea di mettere in salvo in modo preventivo eh l'affresco facendolo staccare dal soffitto e conservandolo arrotolato nel suo palazzo. In realtà anche il palazzo eh Gallarati Scotti è stato bombardato non così duramente come Palazzo Archinto assolutamente ma quello che è diciamo questa attitudine conservativa della della di un antico proprietario del palazzo ci ha permesso di ehm eh di diciamo così di ottenere è la possibilità di appunto di eh ancora cogliere le qualità inventive di questo meraviglioso affresco dove vedete due figure allegoriche due allegorie anche molto banali che traducono eh diciamo le parole del del ripa insomma quel repertorio eh di invenzioni iconografiche che a partire dalla fine della della fine del cinquecento diventa un pochino una bibbia per gli artisti letterati e per gli inventori di programmi iconografici un trionfo della nobiltà e della virtù la nobiltà non come censo ma la nobiltà come attitudine a fare cose grandi insomma la nobiltà tiene eh tra le dita una figura di Minerva insomma dea della ragione dell'intelligenza al pari di Apollo e vediamo anche l'invenzione stupenda di quel tronco che esce dalle nuvole sul quale si 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 diciamo eh si 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 muove in equilibrio precario un amorino che ha uno scettro e una corona eh appunto che annudono alla eh nobiltà e ancora quel gioco bellissimo di quella morino che cerca eh spazio a terra nascosto tra i panneggi della figura della virtù e che diciamo un altro elemento straordinario insomma ehm una fresco che era già noto la letteratura ma non alla letteratura specializzata ma non si era mai visto e non era mai entrato in gioco nella diciamo eh restituzione critica della storia di Tiepolo eh della storia di Tiepolo a Milano. Ecco un po' come avviene con il repertorio dei disegni che Tiepolo riutilizza ehm in anni successivi alla messa in opera eh della eh decorazione di eh Palazzo Clerici anche nel caso eh di eh dell'invenzione di Palazzo Gallarati Scotti noi riusciamo a seguire quasi per gemmazione la eh reinvenzione il riutilizzo la riformulazione di quella eh invenzione ehm eseguita per i Gallarati Scotti. In realtà come dire a monte anche della decorazione di Palazzo Scotti sta l'invenzione di Palazzo Archinto oggi nota solo attraverso quella fotografia storica che vedete in basso a sinistra dove la figura della 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 virtù in quel caso ci restituisce la stessa invenzione della della figura della nobiltà invece nell'affresco di Palazzo Gallarati Scotti ma poi vediamo ed è in mostra sono in mostra tutti e due come Tiepolo qualche anno successivo all'esecuzione dell'affresco di Palazzo Gallarati Scotti che dovrebbe cadere nei primi anni quaranta del settecento metta in opera ehm una villa nei 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 dintorni di Vicenza Villa Cordellina la stessa invenzione arricchita di alcune figure e con alcune varianti e noi eh abbiamo in in mostra questo straordinario bazzetto della Dalich Picture Gallery di Londra appunto preparatorio per l'affresco di Villa Cordellina a Vicenza e a fianco ancora un'altra riedizione della stessa invenzione messa a punto per la prima volta in Palazzo Gallarati Scotti ehm un bozzetto con eh del Museo Pol di Pezzoli di Milano che eh restituisce in qualche modo un'invenzione che Tiepolo mette poi in opera in un eh palazzo di Udine vedete in quel caso c'è quell'idea bellissima della della del panneggio risucchiato come dal vento verso l'altro che che è un'idea di Tiziano rivisitata da Tiepolo appunto per la prima volta in Palazzo Gallarati Scotti e poi ancora eh in occasione diciamo della riedizione della della sua invenzione per questa decorazione a Udine l'ultima tappa insomma della mostra l'ultima stanza ehm ci permette in qualche modo di visualizzare con una breve antologia di di opere ehm anche molto significative la fortuna di Tiepolo in Europa ed in modo emblematico siamo riusciti ad avere eh questo dipinto della National Gallery di Londra con eh un'edizione della storia di Antonio e Cleopata del banchetto di Antonio e Cleopatra su cui Tiepolo lavora molto eh proprio negli anni quaranta insieme al suo amico e consigliere eh e diciamo procuratore in qualche modo eh eh Francesco Algarotti eh il veneziano formatosi a Bologna che è un po' l'arbitro del gusto in molte corti europee e che è il consigliere dell'elettore di Sassonia e re di Polonia Augusto III vale a dire forse uno dei più grandi mecenati eh dell'Europa del Settecento. Tiepolo eh scusate Tiepolo non è così noto fuori d'Italia e Algarotti ha buon gioco di presentarlo all'elettore di Sassonia come il veronese re di vivo. Veronese era un pittore come dire che era conosciuto a tutti e naturalmente Tiepolo ehm questa invenzione eh che diciamo vi faccio vedere il quadro che poi realizza per ehm l'elettore di Sassonia oggi al Melbourne alla National Gallery of Victoria un quadro che non è mai uscito dalla galleria eh di Melbourne neanche nella grande mostra eh di del Metropolitan nel 1996 un quadro monumentale dove eh diciamo la il dialogo la perfetta eh ambientazione delle figure in questa scena teatrale in questa scena veronesiana davvero insomma la la qualità dell'ambientazione architettonica della scena è quella delle grandi cene di di Veronese e quella delle eh delle 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 grandi opere di Veronese che è un pittore eh che gioca con le architetture eh come 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 nessun altro eh pittore del Cinquecento riesce a fare insomma e anche in questa riedizione eh questo è un bozzetto legato a una commissione avuta eh da Tiepolo da un nobile moscovita il quadro finito sta eh in una collezione pubblica eh russa e ci restituisce una variante spettacolare di quella stessa invenzione una variante che assomiglia molto alla meravigliosa realizzazione ad affresco di Palazzo Labia a Venezia con quell'idea estremamente veronesiana della eh della scala che eh diciamo eh scende e sale davanti ai nostri occhi e quasi ci invita illusionisticamente a eh diciamo percorrerla insomma quindi questa eh idea veramente spettacolare e e e diciamo che ci restituisce le qualità di questo nuovo veronese nelle parole di Algarotti ma anche eh nelle parole che ancora oggi noi possiamo utilizzare nel momento in cui ci troviamo di fronte ad opere come queste. Ecco la diciamo dopo essere stato accolto alla corte di Dresda con una serie di tele che non presuppongono lo spostamento fisico del pittore Chiepolo nel mille settecentocinquanta viene eh chiamato a lavorare per questa piccola corte eh eh la corte di Franconia retta da un principe vescovo eh Karl Philipp von Greifenklau che ha l'ambizione eh più sfrenata e come dire se Palazzo Clerici è restituiva eh come dire il soffitto più importante che Tiepolo avesse mai dipinto fino ad allora questa eh diciamo realizzazione è veramente un eh diciamo così un iperbole insomma di quell'invenzione il eh l'affresco l'affresco del salone eh di Wurzburg è uno dei grandi capolavori del settecento Tiepolo si sposta con i suoi figli che da quel momento in poi saranno i suoi più stretti collaboratori e conosciamo lo rivediamo il bozzetto eh per gli affreschi dello scalone che si conserva al Metropolitan un bozzetto che non va in prestito per statuto eh del museo e mentre noi siamo riusciti ad avere il bozzetto per un'altra eh sala del palazzo questo incredibile eh diciamo eh questo Kaisersal che è una specie di sala di rappresentanza per le per le per i pranzi come dire ufficiali eh della 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 corte che ci restituisce una un'invenzione di 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 arredo d'interno di decorazione a stucco eh che eh costituisce uno dei dei grandi capolavori del del rococò europeo insomma vedete gli stucchi che eh ci restituiscono questa specie di scenario eh che si apre sulle scene dipinte da Tiepolo con le storie eh esemplari della delle 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 corti alleate tedesche della eh Beatrice di Borgogna che eh sposa il Barbarossa e il Barbarossa che concede l'investitura al Vescovo Aroldo una specie di antenato se vogliamo dal punto di vista politico della eh principe elettore del vescovo elettore del principe vescovo eh che ingaggia a Tiepolo in questa occasione. Ecco noi eh in mostra abbiamo da bozzetto per la fresco eh per il per il soffitto insomma del Kaisersal di ehm di Wurzburg un bozzetto che si conserva a Stoccarda anche in questo caso di una eh qualità tecnica e di di una conservazione incredibile dove di nuovo vediamo le zone risparmiate dalla pittura di Tiepolo che sono quelle che permettono poi a Tiepolo di eh immaginare il gioco di sovra di sovrapposizione con gli stucchi con la cornice architettonica ehm della eh appunto della 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 sala insomma quindi una grande mobilità di nuovo Apollo eh celebrato come divinità organizzatrice insomma e come divinità civilizzatrice che promuove l'incontro eh fra Beatrice di Borgogna e il Barbarossa. Ecco ehm ne abbiamo parlato per i disegni ne abbiamo parlato per gli affreschi di Palazzo Galarati Scotti ma ehm Tiepolo come dire porta con sé non solo i disegni porta con sé anche dei bozzetti nati in funzione di altre realizzazioni questo che è esposto questo trionfo di Venere del Museo di Madrid del Museo del Prado è un bozzetto per una decorazione che Tiepolo immagina per eh diciamo un nobile eh del legato alla corte moscovita e mh Tiepolo lo porta con sé eh a eh Madrid nel momento in cui si sposta con i figli nel mille settecentosessantadue per lavorare al Palazzo Reale e lo riutilizza per un soffitto eh diciamo eh un soffitto di una stanza che che non è quella che si vede normalmente sui manuali con l'apoteosi di Enea e vedete che alcune invenzioni la figura di Mercurio è quasi specchiata in controparte eh nella fresco rispetto a quanto ci fa vedere eh il bozzetto e anche la figura di Venere è diciamo eh disposta in modo diverso ma insomma la costruzione di queste di queste figure che eh si si aggregano su queste su queste su queste nuvole che sono quasi come dire eh degli elementi di scena costituisce un elemento fondamentale di eh riutilizzo e di reinvenzione eh da parte di Tiepolo. La mostra si conclude idealmente eh presentando il confronto fra il padre e i figli. Qui noi avremmo naturalmente molto voluto avere in mostra la brano I tre angeli di Gian Battista Tiepolo del Prado per vederlo accanto alla suo omologo dal punto di vista iconografico ehm di Gian Domenico Tiepolo non è stato possibile averlo ma abbiamo comunque un quadro eh spettacolare uno degli ultimi quadri dipinti da Gian Battista a Madrid San Francesco d'Assisi che riceve le stimate un quadro che fa parte della serie di palle d'altare che Tiepolo esegue eh per la per la chiesa dedicata a Pasquale Bailon ehm presso la reggia di Aranjuez eh in Spagna nei vintorni di Madrid. Dei quadri dei quadri eh che sanciscono anche come dire la 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 sfortuna di Tiepolo vengono eh messi in opera subito dopo la morte del pittore ma subito levate eh levati dagli altari e e e la corte preferisce una serie di tele di Mengs e degli allievi di Mengs insomma a sancire un cambiamento del gusto eppure quelle pale di Tiepolo sono la testimonianza della capacità del pittore di rinnovare il proprio linguaggio fino all'ultimo minuto insomma no c'è una intimismo una capacità di introspezione eh una sensibilità emotiva tutta diversa rispetto all'esuberanza e alla potenza delle invenzioni eh precedenti. Qui Gian Battista Tiepolo fa tesoro della 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 delle informazioni stilistiche del del figlio Gian Domenico pensando non sono in mostra pensando però alla serie bellissime di incisioni sul tema del riposo durante la fuga in Egitto che Gian Domenico esegue eh proprio negli anni ehm di Wurzburg insomma no? Dei delle opere indimenticabili per la qualità di adesione sentimentale al tema al tema sacco e qui già Battista in qualche modo ce lo ce lo fa percepire in maniera emblematica abbiamo scelto quell'angelo come immagine di copertina non è l'immagine del Tiepolo eh scoppiettante del Tiepolo eh come dire eh più festoso però ci sembrava un'immagine adeguata anche eh come dire alla eh al momento che eh che stiamo vivendo insomma in mezzo in un quadro che è in mostra con Abramo e tre angeli in cui Gian Domenico ehm dopo la morte del padre torna a Venezia e viene ingaggiato per un'importante commissione dalla Scuola della Carità eh di Venezia ehm il bozzetto di Tiepolo insieme ai bozzetti di altri artisti eh di questa stessa composizione viene mandato sotto giudizio a Roma una commissione interviene fra i commissari c'è anche il terribile eh Mengs e Mengs sceglie questo quadro perché di fondo eh Gian Domenico è pronto a diciamo così si trova pronto insomma in questo momento di cambiamento del gusto perché da una parte le scelte cromatiche sono quelle del padre della tradizione familiare dall'altra la semplificazione compositiva questa composizione paratattica quasi a fregio ci ci restituisce una semplicità che quella che eh sta entrando come dire nel gusto del tempo e allo stesso tempo quel luminosissimo angelo una specie di torcia è una trasposizione eh pittorica dell'Apolo del Belvedere quindi è in qualche modo eh la l'immagine più eh immediata della eh del sodalizio come dire che Mengs sta stabilendo con Winkelmann e quasi potrebbe essere l'illustrazione dell'istoria dell'antichità di Winkelmann insomma eh anche senza tradire il colore eh Gian Domenico Tiepolo si fa trovare pronto a questo rivolgimento del gusto eh in senso proto-neoclassico e poi ancora in modo emblematico abbiamo scelto di mettere in relazione padre e figli su un tema su un genere molto fortunato nell'Europa del Settecento eh il tema della testa di fantasia della testa di di carattere quindi una serie di disegni di Gian Battista Tiepolo eh accanto a una serie di teste eh di orientali e di una testa eh diciamo è una una testa femminile vestita sempre in abiti o come dire tipici insomma non so adesso di quale eh di di quale popolazione ma è una una gentildonna in costume eh opere di Gian Domenico Tiepolo che diventa un vero specialista di queste teste di fantasia di queste teste di carattere ehm accolto dai grandi eh collezionisti eh europei del tempo sotto invece eh il fratello più giovane di Gian Domenico Lorenzo Tiepolo che segue il padre e il fratello a Wurzburg e a Madrid e eh a Madrid si fermerà anche dopo la morte del padre e la partenza di Gian Domenico diventando un eh diciamo specialista di queste ehm teste di fantasia a carattere popolaresco insomma no? Scene in costumo di gusto spagnolesco che saranno molto importanti anche come esempio per il giovane Goya. Noi abbiamo eh in mostra le due al centro quelle a destra sono opere sempre di Lorenzo Tiepolo molto note del Palazzo Reale di Madrid e sono opere estremamente delicate sono dei pastelli eh che viaggiano anche con difficoltà noi siamo riusciti ad avere eh queste due opere di una collezione privata di Madrid che ci permettono di documentare eh le qualità di eh Lorenzo anche indipendenti rispetto invece a quelle di eh Gian Domenico più ehm diciamo fedele ai modelli eh del padre. Quindi la mostra si conclude qui è come dire eh credo di di avere offerto un un'idea esaustiva della mostra del delle delle caratteristiche principali purtroppo con questa modalità non non vedo non sento nessuno ma forse naturalmente sono pronto a rispondere alle vostre domande qualora avesse delle curiosità delle cose che non avete capito di cui volete sapere qualcosa di più. Interrompo la condivisione della PowerPoint e aspetto eventuali domande se ci fossero. Come no intanto io volevo sono Irene Graziani non so se mi sentite oltre che vedermi volevo ringraziarla e veramente complimentarmi perché è una bellissima mostra speriamo davvero di poter presto venire a visitarla mi è piaciuto molto questa ricostruzione dei cantieri nei quali lavora eh Tiepolo a Milano ma anche gli antefatti diciamo così quindi l'idea di portare in mostra per esempio i dipinti che facevano parte delle decorazioni delle due dimore quella Sandy e anche la Zenobia veramente poi mi sembra che abbiate documentato benissimo anche ciò che non può essere presente in mostra perché come sappiamo bene appunto Tiepolo è soprattutto famoso come frescante quindi l'idea dei bossetti e bossetti anche così preziosi provenienti anche da ehm musei non subito alla portata di mano bellissima anche la ricostruzione con i disegni che avete pensato sul catalogo per Palazzo Clerici quindi davvero mi sembra un'operazione culturale completa e anche difficile in un momento storico in cui fra l'altro tante mostre si possono anche essere già sommate sull'attività di Tiepolo ma qui anche Pagani l'idea di Pagani molto bella anche quella quindi credo davvero che le domande ci possano essere non so se con questo sistema un po' macchinoso di un collegamento anche su Facebook eh Valentina sia riuscita a intercettare qualche eh domanda che sia comparsa nella chat quindi aspettiamo qualche secondo per vedere sono tantissime le persone collegate moltissime proprio o commentavo anche con il professor Benati proprio quindi ci fa molto piacere vedere che se non altro questi mercoledì di Santa Cristina riescono a raggiungere il nostro pubblico a dispetto dei tempi e della situazione appunto così difficile e aspettiamo qualche seconda complimenti ma non domande dicono tanti complimenti arrivano appunto perché su Facebook anche questo anche questo eh compare e quindi magari chiedo una cosa io così per curiosità soltanto in rapporto in relazione a questa commissione importante proprio che lo mette in accordo in in comunicazione con Ludovico Antonio Muratori che non so se possa essere stato l'occasione anche per il coinvolgimento di Bigari perché fra l'altro credo che il bibliotecario degli Archinto fosse di origine bolognese se non sbaglio era un argelati non so se lui possa avere anzi a proposito molto bella anche questa apertura di sguardo su tutti i nostri bolognesi che sono entrati in rapporto con Milano ecco su questi contatti di Tiepolo con una cultura che è quella del secolo dei lumi avete trovato anche delle ulteriori novità o la commissione che vi sembra davvero più significativa è quella dei del mondo editoriale con muratori e con i rerum italicarum scriptores e via dicendo avete trovato anche delle nuove figure di intellettuali con le quali entri in contatto Tiepolo a Milano ma allora la scusi che sono rimasto distratto dalla 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 chat allora non guardo sì sì poi dopo quello con quello magari rispondiamo ma intanto per rispondere alla sua domanda molto molto efficace sì è vero appunto l'argelati bolognese gli aldrovandi comunque sono 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 anche molto in contatto con 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 gli ambienti con gli ambienti legati agli 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 archinto insomma e quindi è incredibile insomma la una delle grandi novità degli ultimi anni proprio sono state le sono state le messe a fuoco della 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 relazione fra quei disegni che si considerano metropolitano che erano già attribuiti a Tiepolo ma nessuno aveva collegato quelle quei disegni fino a dieci anni fa è stata una studiosa tedesca la prima a metterla a mettere in relazione i disegni di Tiepolo con le illustrazioni dei del rerum italicano scriptores quindi è emersa in qualche modo in tutta la sua ricchezza questa iniziativa editoriale cioè è incredibile pensando anche all'editoria di oggi insomma più o meno gloriosa più o meno eh diciamo ehm attenta alla cura editoriale ma ma quello che è emerso è che diciamo esisteva proprio un gruppo di lavoro correttori di bozze che ehm diciamo coinvolgeva il prefetto della il prefetto della biblioteca ambrosiana insomma una figura intellettuale sicuramente importante eh appunto figure come Apostolo Zeno come Scipione Maffei cioè era era un lavoro collegiale che coinvolgeva in qualche modo tutti gli intellettuali migliori del tempo insomma ecco è chiaro che come sempre avviene gli studi come dire eh sulla 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 storia eh culturale milanese hanno sempre privilegiato il momento appunto della Milano dell'Accademia dei Pugni dei Verri e di Beccaria insomma no immaginando che quello che era avvenuto prima e di fondo anche le iniziative legate alla società palatina fossero un pochino delle iniziative legate a dei circoli nobiliari eh non diciamo attenti alla riforma della società cioè in parte è vero insomma no è chiaro che la riforma della giustizia è una cosa diversa dalla erudizione e dalla riscoperta del medioevo promossa da 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 muratori però quella vivacità che poi è espressa dal gruppo della dell'Accademia dei Pugni è preparata indubbiamente da queste da iniziative come quella della società palatina e del gruppo che che si che si che si forma intorno si forma intorno a muratori insomma è un momento in cui eh nascono anche delle accademie scientifiche che naturalmente hanno sempre un tono leggero fra virgolette però eh non possono essere tenute in secondo piano insomma perché ecco la figura di questa nobile donna Clelia Grillo che sposa un Borromeo e che è in qualche modo imparentata con gli Archinto perché il figlio di Clelia Grillo la figlia di Clelia Grillo sposa un il figlio di Carlo Archinto e di nuovo un altro intreccio molto interessante in cui questa società eh diciamo che certo non dimentica non dimentica di appartenere a un alla diciamo all'aristocrazia non non diciamo non non gioca contro i propri privilegi come parte faranno i i verri e beccaria insomma eh giocando una partita contro i loro padri ma però prepara in qualche modo un tessuto eh culturale che che rende Milano una 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 città davvero all'avanguardia eh nell'Italia del tempo insomma ecco questo senso credo di avere risposto alla domanda che mi avevi fatto. Certo grazie ancora dunque intanto qualcuno ci chiede le chiede dei suggerimenti sulle fonti ci ha già segnalato tanta bibliografia mano a mano strada facendo però non so se c'è qualche fonte particolare in più proprio su Milano su questa presenza. Insomma diciamo che naturalmente il catalogo della mostra di New York sicuramente importantissimo e sicuramente anche il nostro catalogo perché lavoriamo molto su Milano e credo. Non glielo ho detto ma c'è proprio un bel catalogo veramente proprio e quindi chiedono se c'è qualche altra indicazione. Ci sono tanti studenti ovviamente collegati quindi. Adesso fare un elenco diventa un po' complicato ma se voi mi scrivete con grande piacere vi rispondo alla mia mail istituzionale alessandro.morandottiunito.it e volentieri tutto quello che posso suggerirvi vi rispondo con grande piacere insomma. Un'altra domanda invece più su sull'IS che hanno sentito nominare nel corso appunto di questa conferenza e quindi questa Marta insomma ci chiede quanto sia importante l'attività di l'IS per Tiepolo. Sono domande. Ma no l'IS è una un artista fondamentale come dire lavora a Venezia licenzia molte opere ed è un pittore che per tutto il Seicento costituisce un una pietra di paragone importante per i tenebrosi eh per Lot, Langetti, Zanchi e lo sarà molto anche eh per Piazzetta insomma perché la figura di San Jacopo che volge le spalle al suo carnefice e fugge a quella monumentalità, quella esuberanza se vogliamo rubensiana insomma che 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 discende molto dalla eh conoscenza di di l'IS. Eh l'IS è un pittore molto importante per diversi pittori del Settecento anche per eh un pittore lombardo come Giuseppe Bazzani ehm quindi è un pittore con cui sicuramente Tiepolo fa fa i conti e ci sono noi abbiamo la fortuna Tiepolo è stato studiato in maniera mirabile dalla tradizione di studi Veneziana insomma ma soprattutto gli studi straordinari e fondamentali sul pittore sono quelli di Adriano Mariuz che ha molto lavorato sulle fonti figurative di Tiepolo e e sono incredibili perché Tiepolo lavora sulle stampe lavora sulle stampe eh dei Carracci lavora sulle eh sulle stampe appunto di di Grechetto di eh di Rembrandt è una uno straordinario accumulatore di suggestioni che in qualche modo ehm vanno cercate vanno le sue fonti in parte ci ha lavorato appunto Adriano Mariuz ma continuamente noi dobbiamo ancora veramente interpretare i prelievi che questo grande eh affabulatore questo grande genio eh diciamo così eh settecentesco eh ha introdotto mascherandole trasfigurandole nelle sue composizioni benissimo allora mi pare che non ci siano altre domande vedo che è già tanto diciamo che siamo anche collegati e quindi se non ci sono domande sarei per salutare tutti ringraziare ancora tantissimo il professor Morandotti riprometterci al più presto di venire in visita alla mostra speriamo proprio che anche la l'apertura dei confini ce lo conceda e e l'apertura anche degli orari è da domani mi sembra di aver da domani aperta dalle dieci alle venti con un orario prolungato e meglio prenotare perché ci sono ingressi contingentati e e quindi per il momento sabato domenica è chiusa la mostra eh ma è aperta tutti i giorni feriali insomma avete previsto anche delle visite in palazzo? No quello già da prima della 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 dell'aggravamento della pandemia abbiamo era molto complicato nessuno poteva prendersi la responsabilità di coordinare i gruppi e quindi purtroppo è una un'occasione che va rimandata insomma la visita ai palazzi non non è prevista ecco beh comunque direi che la mostra sia già più che sufficiente anche proprio per proiettare Tiepolo in Europa perché effettivamente c'è questa apertura si vedono le sue attività che poi preludono agli ardimenti che avrà a Wurzburg e anche in seguito a Madrid quindi direi che ce ne sia più che a sufficienza professore allora la ringraziamo ancora tanto e purtroppo l'applauso non si può sentire ma non c'è bisogno ma la cosa importante appunto è e che 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 appunto come lei mi dice è stata seguita e io sì sì ho fatto ho fatto quello che quello che mi avete chiesto di fare sono contento di averla presentata ed è stata anche di buon augurio perché fino a fino alla settimana scorsa non si sapeva se la mostra si sarebbe riaperta e quando e quindi la conferenza coincide con la notizia della riapertura che che fa piacere perché uno fa la mostra perché poi venga vista non il catalogo è un è un meraviglioso è un meraviglioso surrogato che resta per sempre ma la visione diretta delle opere è la ragione per cui si fanno le mostre esattamente no il pubblico era numeroso perché ho sentito prima professore più di novanta persone mi sta dicendo Valentina quindi veramente direi che siamo riusciti con questa iniziativa a raggiungere tante persone quindi grazie ancora sono io che vi ringrazio buona serata e grazie anche dell'assistenza tecnica come si dice arrivederci grazie a tutti grazie a tutti